Bella a tutte le grazie e buoni in questo nuovo video, siamo qui tornati per giocarci la nostra serie principale scusatemi se in questi giorni non l'ho fatta più ma ci sono stati dei veri motivi quindi siamo qui sulla serie principale, l'avventura di Jack raga gli direi subito di iniziare a fare la nostra grotta però dopo aver dormito, grazie, gioco giudile, nostro lettino molto chic, forza Roma, forza Roma oh oh raga, raga, c'è un vero i problemi, ok, penso che il vero i problemi è sistemato oh che cazzo pacco, lascia, ecco il vero i problemi raga, era che se mi svegliavo dormivo con il spalato vabbè, insomma è giorno, possiamo andare, andiamo a iniziare a scavare la grotta, tanto famosa la chiamerò la grotta di Jacob, Jacob il gay si chiamerà ok, andiamo a scavare la grotta di Jacob, allora da qui non si passava se non mi sbaglio, giusto quindi dobbiamo andare a fare anche una bellissima e simpaticissima via che ci porti, ci condurrà nella caverna di Jack l'escavatore da qui ovviamente si scende adesso è Giovannusso Pane Puzzo andiamo così ok, perfetto qua un altro ovviamente se c'è la torcia per dopo, oltre tanto so che questa sarà una brutta fine eh, raga, niente, io direi di scavare da qua la grotta di Jack l'escavatore ci troverà in questo punto iniziamo a scavare sotto il mondo dell'universo terrestre Marvel non so perché ho detto Marvel ma ci stava perché stavo andando a scavare no, no ah, no spasseggera, sì, sì non ho pensato che qua si erano mezzo di grano aspetta questo qui e questo così perfetto sì ah, vapangulamamd vapangulamamd oh, vapangulamamd oh, vapangulamamd mi sei piaciuto le palle ti vorrei distruggere, ammientare ti vorrei malmenare andiamo, corriamo su ah, ma perché ti fanno un metro un metro mi fanno un metro mi spaccano le ossa un metro di 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 mia mia no non voglio rona no non voglio cazzi continuiamo ok andiamoci un po' di 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 come no no come raga spero che è uno scherzo non ho non ho non ho torce raga raga abbiamo un problema non ho torce proviamo a craftarne altre due magari non ci faccio una ceppa con due questo è un guaraglio problem è un guaraglio problem è un guaraglio problem ma invece no vabbè ne ho fatto già tantissime ok ok grazie per security non penso che mi serviranno possiamo andare a combattere contro il crimine non so perché ho detto questo giustamente sto per prendere 80 di danno ok quindi troppo danno anche acconacciato ok iniziamo penso che vi veloci non so parlare penso che vi veloci inizzerò il video ok 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 Grazie a tutti. 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 con... e... tipo... ... ... ... ... perché ha... ...... gentile... gioco... ... ... ... bella raga...